Avier, ma assomiglio io a questa fascia o no? Ti ho fatto bene, ti ho fatto bene. Sai che la mia 519 era anche lei con il Bologna, quindi una coincidenza incredibile. Incredibile, no, a me mi fa piacere che sei qui con me a festeggiare questo traguardo perché sei stato il primo ad accogliarmi da piano a insegnarmi cosa vuol dire la realtà dell'Inter e credo che questo per me non era da dimenticare. Guarda, io sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, l'ho intuito dal primo allenamento che ti ho visto a Cavalese. Possesso palla non perdevi un pallone, quindi io penso la tua felicità in questo momento, ma fino a quanti anni vuoi giocare? No, io credo che mi sento bene ancora e voglio godermi questo momento. So che prima o poi arriverà il momento di lasciare il calcio, però credo che se mi trovo bene così, mi rendo utile la squadra, è importante e voglio continuare. Dopodiché, quando arriverà quel giorno, smetterò e seguirò in questa società che per me è molto importante. Cos'è cambiato con Leonardo? Leo, fin dal primo giorno, credo che si è reso molto disponibile, ha concetti chiari per tutti noi, sappiamo quello che dobbiamo fare e speriamo di seguirlo e che le cose possano andare bene.